Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno la segna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo, abbiamo un po' di aggiornamenti sulla situazione israelo-palestinese e sul referendum in Russia, come abbiamo fatto anche ieri, ma appunto ci sono un po' di novità, e parliamo dell'accordo commerciale fra Unione Europea e Mercosur, che è diciamo l'unione, il mercato unico dei paesi dell'America Latina, di alcuni paesi dell'America Latina, ma lo vediamo dopo. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che se voi andate sulla pagina l'assegna stampa d'Italia che cambia.org e trovate, cioè non ne trovate, trovate tutti gli articoli di cui parlo e anche altri di cui non parlo, che sono le notizie più interessanti della giornata sostanzialmente, nonché da qualche giorno trovate in alto sotto a Seguici su la possibilità di iscrivervi al gruppo WhatsApp, al gruppo Telegram e alla newsletter dedicata. Per seguire più comodamente Io non mi rassegno domani. Va bene, partiamo appunto con un po' di aggiornamenti, in particolare sulla questione annessione dei territori da parte di Israele. La questione, ne abbiamo già parlato appunto, è che Netanyahu Israele aveva dichiarato più volte di voler ammettere, annettere in maniera unilaterale le colonie ebraiche presenti nei territori palestinesi in Cisgiordania, e nella Valle del Giordano. Solo che questa cosa sembra essersi arenata, come già anticipavamo ieri. Praticamente dopo aver affermato per mesi Netanyahu che il primo luglio sarebbe stata la data della svolta per Israele, arrivati al momento fatidico il Premier è rimasto zitto e non ha detto niente. Eppure la cosa particolare è che in questo momento storico poteva contare sull'appoggio quasi incondizionato di Trump, quindi dell'amministrazione americana, e su una comunità internazionale che non sembrava proprio sul piede di guerra e quindi disposta a qualsiasi cosa pur di impedirglielo. E quindi viene da chiedersi come mai non è andato fino in fondo. Ecco, su Internazionale Gwyneth Dier prova a spiegarne i motivi, e qui la faccenda si fa abbastanza interessante perché sostanzialmente secondo la giornalista l'annessione non farebbe veramente comodo né a Israele né agli interessi politici del Premier stesso. Perché al momento diciamo lato Israele già controlla militarmente tutta la Cisgiordania, scusate è veramente complicato da pronunciare, e di fatto amministra un terzo del territorio occupato dai coloni ebrei come se fosse parte di Israele, quindi non ci sono tutti questi vantaggi in un'annessione anche formale. Dall'altra parte invece i costi dell'operazione sarebbero alti perché in primo luogo l'annessione è illegale dal punto di vista del diritto internazionale e potrebbe portare a nuove sanzioni o boicottaggi nei confronti di Israele. In secondo luogo potrebbe anche scatenare una nuova rivolta violenta da parte di milioni di palestinesi che vivono nelle aree occupate e quindi causare la rottura delle relazioni con vicini arabi come la Giordania, l'Egitto e l'Arabia Saudita, che negli ultimi anni sono migliorate via via. Tra l'altro a mettere in guardia Netanyahu è arrivata anche una petizione firmata da quasi 300 ex ufficiali del Mossad e della polizia che lo ammoniscono sul rischio che una decisione unilaterale del genere potrebbe appunto far scoppiare una serie di reazioni a catena non positive e non controllabili. E poi, come dicevamo prima, c'è l'interesse personale del Premier, l'interesse politico e personale del Premier e del suo partito. Premier che ha fondato tutta la sua carriera politica sullo spauracchio della soluzione a due stati, che era quella soluzione ventilata per anni, secondo la quale un mini-stato indipendente palestinese sarebbe affiancato e avrebbe condiviso la Palestina storica con il più esteso e potente stato nazionale ebraico. Soluzione contro cui però Netanyahu appunto si è scagliato fin da subito e sulla quale ha costruito buona parte della sua popolarità, cioè contro la quale ha costruito buona parte della sua popolarità, convincendo gli israeliani e i coloni israeliani a seguirlo e quindi a votarlo. L'annessione delle due colonie ucciderebbe definitivamente questa soluzione e quindi in fin dei conti lo indebolirebbe politicamente, nonostante potrebbe essere considerata una sua vittoria, però probabilmente nel medio-lungo periodo lo penalizzerebbe perché andrebbe a cadere il punto forte, il cavallo di battaglia di tutte le sue campagne elettorali. E perciò è plausibile che Netanyahu preferisca in realtà mantenere lo status quo e ogni tanto sventolare lo sparacchio della soluzione a due stati e la possibilità di un'annessione unilaterale, ma senza avere una volontà reale di procedere in questa direzione. Ad ogni modo il clamore suscitato in queste ultime settimane dalla minaccia di annessione ha avuto come effetto collaterale quello di rafforzare invece il fronte palestinese ed è successa una cosa abbastanza storica perché ha riavvicinato praticamente Al-Fatah e Hamas, che sono i due principali movimenti politici palestinesi che sono da tempo in conflitto fra loro e sostanzialmente non si parlavano, mentre proprio pochi giorni fa in una rara conferenza stampa congiunta i leader dei due partiti e dei due movimenti hanno promesso ogni sforzo anche congiunto per garantire l'unità nazionale e quindi scongiurare il piano elaborato congiuntamente, a detta loro, da Tel Aviv e Washington. Questo è un po' l'aggiornamento della situazione israelo-palestinese. Molto più brevemente vi do gli ultimi aggiornamenti invece sul referendum costituzionale in Russia, dove il 68% dei russi è andato a votare e ha scelto il sì alla riforma costituzionale promossa dal presidente Vladimir Putin, riforma che, dicevamo ieri, consentirebbe al presidente la ricandidatura praticamente a vita, perché lo farebbe restare in sella fino al 2036 se venisse riletto, quindi quando avrebbe più di 80 anni. Avevamo già visto ieri i primi risultati, non che fosse particolarmente in bilico, insomma gli exit poll già davano una vittoria abbastanza schiacciante del sì, che ha rafforzato ulteriormente il suo vantaggio, stant'è che circa l'80% dei votanti ha espresso il suo voto a favore della riforma costituzionale, appunto, e quindi delle modifiche alla Costituzione che considera tirando da una parte a Putin di restare al potere e poi tutte le altre cose che abbiamo visto anche ieri, la stretta contro i matrimoni omosessuali, il riferimento alla chiesa ortodossa e una serie di altre piccole modifiche, piccole si va per dire. Va bene, quindi, diciamo, altro dato da registrare è che le opposizioni sul voto, sul discorso del referendum e sul voto, hanno fin da subito denunciato alcune irregolarità nel voto, sostenendo che in realtà appunto la votazione non si sia svolta in maniera corretta e che non fosse possibile controllare l'effettivo esito del referendum, anche se viene da pensare che, visti i numeri, il risultato del referendum non potesse mai comunque essere in discussione. Va bene, detto ciò ci spostiamo a Ovest per parlare invece dell'accordo fra Mercosur e Unione Europea. Il Mercosur è, se non lo sapete, è il mercato europeo, il mercato comune dell'America meridionale, di cui fanno parte in qualità di stati membri Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela. In pratica sono circa vent'anni che il Mercosur e Unione Europea stanno cercando di trovare un... mandano avanti dei negoziati per trovare questo accordo su un trattato commerciale fra i due blocchi di paesi e adesso sembrano arrivati in prossimità dell'approvazione. Per la firma definitiva mancherebbero pochi dettagli legati al capitolo istituzionale e elementi tecnici della disciplina del capitolo economico e commerciale. Questo trattato rientra fra quei trattati commerciali transnazionali tipo TTIP, tipo CETA e, come i suoi più famosi colleghi, anche questo trattato sta sollevando diverse polemiche perché presenta una serie di rischi. C'è un nuovo rapporto di cui parla Green Report, insomma è stato pubblicato su diversi giornali, dal nome Pianeta Svenduto realizzato da Stop TTIP Italia e accompagnato da una lettera firmata da 265 organizzazioni latinoamericane ed europee che danno il via alla campagna Stop EU Mercosur, perché in pratica l'accordo commerciale rischierebbe di alimentare da un lato la distruzione dell'Amazonia e la violazione dei diritti umani, soprattutto per i popoli indigeni, con l'obiettivo appunto di incrementare gli scambi fra Unione Europea e paesi del Mercosur e dall'altro di favorire la commercializzazione anche in Europa di prodotti particolarmente dannosi per il clima e per l'ambiente, non solo in Europa ma in realtà anche in America Latina. Adesso vediamo un po' più nel dettaglio perché da un lato infatti il trattato vuole facilitare l'industria automobilistica europea, soprattutto tedesca, quindi un'industria altamente impattante dal punto di vista climatico e ambientale, mentre dall'altro aiuterà gli allevatori e gli agricoltori brasiliani e argentini a spedire in Europa centinaia di migliaia di tonnellate di carne, soia, biocarburanti e altri prodotti agricoli, tra cui probabilmente anche OGM e prodotti trattati con pesticidi spesso vietati, e sono tutte produzioni che contribuiscono alla devastazione dell'Amazzonia. Quindi diciamo sicuramente come spesso avviene in questi trattati, poi quando si accordano due grossi blocchi di paesi anche gli standard tendenzialmente vengono abbassati in modo da favorire la circolazione libera dei prodotti e queste cose, come vediamo appunto nel report pubblicato oggi, possono avere una serie di effetti collaterali ambientali, sociali, culturali abbastanza devastanti. Quindi occhi aperti e noi continuiamo a parlarne e vediamo quello che succede. Detto ciò io con oggi ho finito, siamo a 11 minuti quindi in ritardo abbastanza onesto e vi do appuntamento all'oledì perché oggi è venerdì e con una nuova puntata io me la segno sempre alle 10 sempre per 10 minuti e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!